House of Web Eccoci qua per una nuova puntata di House of Web Omar Fantini e Gianluca Centilla Fubelli Oh ma prima di iniziare, visto che è una questione che so che potrei dirlo prima però ha chiamato il tuo agenzista e mi ha chiesto perché non sei andato? Eh, e tu gli hai detto che non sono andato perché è un cacchio di serial killer è un cacchio di serial killer A cazzo di serial killer? Ti stavi censurando? Sì Che brivido, ma lì ci guardano i bambini? Eh non si sa mai Vabbè adesso il dentista è il serial killer dai, sei esagerato No, è serial killer No, 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 è un pazzo maniaco Io non ci vado da quello lì Si vede proprio che quando mi infila quegli arnesi in bocca Cioè tutto passa quel tempo lì a trappanare e fare male Il dentista se deve intervenire è certo che travana Ho capito ma io lo vedo proprio che prova piacere dal mio dolore Vero No ti giuro gode, gode Ma forse gode nel migliorarti la bocca No, gode del mio dolore Ma non è vero Sì, fidati Che sbava 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 E sta sopra di te Sbava addosso Fai conto che durante l'operazione l'assistente in poltrona l'aspira Salvino e lo metti in bocca a lui Perché se no ti sbava 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 Questo l'hanno messo in lavatrice Sorridi No i denti Ma hai detto l'apparecchio Ma i denti vedi Ma è la voce quella Se cani c'è il foglietto No Ma più bello Un cigno Ma è normale È ammastrato L'uomo Sì Tanto io sono attratto da tutto quello che c'era intorno Non sei dentro Oggi non è fredda eh 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 Non sei ancora dentro Eccolo Ecco fatto Sì Beh l'hai voluto di Sì Il cane è il tuo eh È l'istinto È l'istinto È goloso perché tre ne ha di cani Eh tra l'altro due erano già fili fuori Ma non si stanno Quella è mia pappacorgia No A chi ce l'ha Quella è un ascesso eh No Madonna guarda Vabbè Non so è una ragosta con Le Le Ma Sai quando vengo uno? È mio Non ha calcolato l'imbalzo House of Web Siamo arrivati alla fine di questa puntata di House of Web Gianluca Centilla Fubelli è padre coraggio Qui che evita di andare al dentista per paura E poi lo vede in tutti i modi Vi salutiamo Siamo ancora al pdf Ma non è detto Magari non ci troverete più qua Dipende da chi ci chiama Chi non ci chiama Intanto lo ringraziamo Il pdf È un locale strepitoso Ve lo ricordiamo È a Bergamo Venite il sabato Il giovedì Il giovedì c'è anche cabaret Non mancate Esatto Se il video vi sono piaciuti Mettete mi piace E condividete Condividete tantissimo Perché abbiamo bisogno di No ragazzi Voi siete la nostra base di diffusione È fondamentale questa cosa ragazzi Non finirò mai di dirlo Noi siamo le carie E voi siete la pessima generale Diffondeteci Capito? È un complimento? Sì Cioè il generale pessima è un complimento? Sì Perché noi siamo le carie e quindi Loro permettono la diffusione E quindi i denti poi Infatti non lavarsi i denti tutti i giorni per dire eh Ogni ora ci permette di diffonderci Quindi è una cosa positiva È un bel complimento quello che gli ho fatto Ci hanno degli aliti di merda però Ci aiutano Bene Allora se anche voi avete preso questo come un complimento Condividete tantissimo E continuate con la pessima generale Noi vi diamo appuntamento Ancora con House of Web Ancora con Marfattini Ancora Giornove Cintilla Pubelli Stesso posto Forse Stessa ora Sempre House of Web Troca Grigio Noi vii Viola Vediamo Viola